PMR 446 Tecnologia a libero uso utilizzabile per la gestione di eventi, siano essi sportivi, musicali o grandi eventi dove la quantità di persone di cui garantire sicurezza e logistica sia elevata. Abbiamo a disposizione ormai radio compatte in tecnologia sia analogica che digitale. Ormai i PMR 446 digitale sono la norma per l'organizzazione di questo tipo di eventi che danno prestazioni di altissima qualità audio, una buona dose di privacy e soprattutto mettono a disposizione nella gama professionale presentata da Kenwood di tutta quella accessoristica che è necessaria a chi ne fa un uso professionale. Microfoni da bavero, auricolari a scomparsa, ne fanno uno strumento essenziale e indispensabile su cui si può contare per la gestione degli eventi.